Un buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura la cronaca con l'omicidio Di Silvi è stata una lite familiare a causare la morte all'ospedale di Atri di Giovanni Di Martino meccanico in pensione di 73 anni che in seguito alle profonde ferite riportate alla testa dopo la caduta avvenuta in casa è deceduto appunto nonostante le cure dei sanitari alla base di tutto ciò ci sarebbe dunque un litigio con il figlio per il momento l'accusa di omicidio preterintenzionale andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti Sarà l'autopsia i cui esiti si conosceranno nelle prossime ore a dare una svolta alle indagini sulla morte di Giovanni Di Martino il meccanico in pensione di 73 anni di Silvi deceduto all'ospedale di Atri in seguito alle ferite riportate durante una colluttazione con il figlio Giuseppe architetto 45enne intervenuto per difendere la madre durante una lite fra i genitori nella loro casa Giuseppe Di Martino resta intanto in stato di fermo presso la casa circondariale di Castronio a Teramo con l'accusa di omicidio preterintenzionale difficile dare una spiegazione anche medica a quanto accaduto giovedì notte Spesso accade che nelle famiglie quando ci sono questi litigi il figlio arriva in soccorso della madre che spesso diciamo è il genitore che soccombe Guardi ogni situazione a sé e non si può mai giudicare la sofferenza degli individui bisogna piuttosto capire quali sono stati i percorsi e noi lasciamo questo ad organi competenti Per quello che riguarda me in quanto specialista della salute mentale o le mie colleghe che qui nel centro di salute mentale di Atri lavorano in modo indefesso a sostegno delle persone di questo territorio possiamo solo dire che esistono dei modi per superare la crisi come vi ho già anticipato e delle possibilità per capire e non agire in modo ostintuale Edgar ci ricordava nelle sue lezioni a Tubinga che è importante sempre in qualche modo controllare l'istintualità prevenire comportamenti a nocumento di terze persone soprattutto di se stessi Non si può parlare però in questo caso di raptus I raptus esistono esistono le premeditazioni esiste un po' tutto nel mondo questa è la storia dell'uomo la storia delle persone che noi conosciamo ma ripeto ogni storia è a sé e quindi lascio a voi delle riflessioni forse quella più importante è proprio riflettere che cosa è oggi la famiglia per me è un nucleo fondante ed è questo che io cerco di traslare e trasmettere nella mia pratica quotidiana Adesso andiamo avanti con il nostro giornale ancora la cronaca minacciato di morte la fidanzata coetanea con un coltello durante una lite in piazza Martiri della Libertà in pieno centro a Teramo lei ha chiamato il 113 sul posto sono arrivate due volanti gli agenti sono così riusciti a bloccare il ventenne mentre si stava allontanando durante la perquisizione il giovane non è stato trovato in possesso del coltello di cui verosimilmente si era disfatto poco prima condotto in questura è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica che ha stabilito l'accompagnamento presso la casa circondariale di Teramo Cambiamo argomento adesso perché torniamo sulla vicenda che riguarda i pedaggi autostradali il suo a 24 ed a 25 resterà congelato fino a fine agosto l'aumento ventilato da strada dei parchi di circa il 19% l'accordo è stato trovato al MIT dopo giorni di alta tensione il servizio evitata dopo una serrata trattativa tra il ministero e la concessionaria strada dei parchi la maxi stangata sui pedaggi nelle autostrade laziali abruzzesi a 24 e a 25 l'aumento delle tariffe di circa il 20% che sarebbe scattato il primo luglio è stato congelato fino al prossimo 31 agosto l'intesa è stata raggiunta grazie al fatto che sul piatto è stato messo il rinnovo del piano economico finanziario il ministero per le infrastrutture e trasporti in una nota annuncia di aver chiesto e ottenuto da strada dei parchi il blocco dei rincari dei pedaggi nelle more della definizione del nuovo piano economico finanziario atteso da 5 anni nel corso dell'estate il ministero spesso in contrasto con strada dei parchi sullo stato della sicurezza delle due arterie parla di 700 milioni di euro di soldi pubblici molto probabilmente un anticipo relativi al piano economico finanziario da sbloccare entro l'estate il piano prevede un maxi progetto di messa in sicurezza antisismica delle a 24 e 25 insieme al controllo delle tariffe il mega intervento è secondo l'ultimo elaborato caratterizzato da un investimento di 3 miliardi e 100 milioni di euro due dei quali coperti dallo stato la restante parte da strada dei parchi in attuazione di una norma inserita nella legge di stabilità 2012 suggerita dal terremoto dell'Aquila del 2009 nella quale le due arterie vengono considerate strategiche ai fini di protezione civile proseguiamo adesso in occasione della presentazione del movimento DEMA a Pescara è arrivato in Abruzzo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha visitato anche la discarica sul fiume Saline a Montesilvano una vista gradita oggi in Abruzzo a Pescara del sindaco di Napoli Luigi De Magistris ma in questo momento siamo lungo le sponde del fiume Saline dove c'è questa discarica un problema che si trascina da tanti anni le hanno illustrato poco fa qual è la situazione sì me l'hanno illustrato invitando le ringrazio e vedendo ovviamente si ha una sensazione ancora peggiore e inquietante sono contento di essere qui perché mi sta molto a cuore la tematica ambientale a Napoli abbiamo vissuto l'emergenza rifiuti prima che io diventassi sindaco so che significa distruggere i territori con complicità, connivenze, indifferenze ci vuole una grande mobilitazione civica e popolare per poter scardinare silenzi, distrazioni e anche atteggiamenti inaccettabili perché è impensabile che possa rimanere una situazione come questa per così tanti anni l'Italia ha bisogno della messa in sicurezza del territorio grandi investimenti pubblici per risanare, rigenerare, riqualificare e mettere in sicurezza io faccio il sindaco di otto anni ho attraversato molti governi ne devo trovare ancora uno che finalmente rappresenta una svolta da questo punto di vista tornando alla politica sinistra e centrosinistra oggi nel nostro paese stanno attraversando un periodo di crisi anche di identità secondo lei? la crisi è stata anche abbastanza ottimista nella sua valutazione la sinistra in quanto tale non sta più al Parlamento europeo è scomparsa anche a livello nazionale da molti consessi sta in grande crisi il centrosinistra non ne parliamo proprio io vi posso dire quello che ho fatto a Napoli ho fatto tante cose di sinistra senza dire troppe volte di essere di sinistra e nel fare cose di sinistra tanta gente che non è di sinistra è venuta insieme a noi a fare cose di sinistra per ripartire con la sinistra bisogna farle le cose di sinistra perché troppa gente ha tradito quel mondo e non è più credibile per fare la rivoluzione deve essere coerente e credibile rivoluzionario significa rompere il sistema e avere capacità di governo ecco nel nostro piccolo a Napoli questo l'abbiamo fatto è un'esperienza autonoma di sinistra ma che insieme a noi c'è tanta gente che non viene dal mondo del centrosinistra proclamati i vincitori della sezione di narrativa ed italianistica dei premi Flaiano giunti alla 46esima edizione vediamo la 46esima edizione dei premi Flaiano si contraddistingue quest'anno per molte novità la prima è quella delle due serate di premiazione la prima si svolgerà presso l'Aurum per la narrativa e l'italianistica e la seconda in piazza Salotto per la premiazione del teatro, del cinema, della radio e della televisione c'è stata una partecipazione altissima di scrittori sono arrivati circa 86 libri dalle case editrici più importanti a quelle minori e questo ci fa capire quanto sia importante un premio di narrativa serio costituito attraverso una selezione tecnica di professionisti e di lettori dei cento lettori che poi svolgeranno il proprio lavoro votando nella serata finale e individuando tra i tre finalisti chi sarà il vincitore in più c'è l'italianistica l'italianistica e i libri sono arrivati da tutto il mondo da 18 nazioni e quello che colpisce del premio di italianistica è l'attenzione sempre maggiore che negli istituti di cultura all'essero viene data alla letteratura italiana alla cultura italiana e allo studio della lingua italiana e questo aiuta ancora di più il Flaiano nel proprio progetto culturale che è quello di diffondere la cultura Andiamo a Santa Maria in Baro dove è polemica aperta per il taglio di una decina di pini nel centro del paese che dovrebbero essere sostituiti da alberi meno dannosi per la pavimentazione stradale il sindaco di Nunzio dice una scelta dolorosa ma necessaria Decisione dolorosa ma necessaria così l'amministrazione comunale di Santa Maria in Baro giustifica il taglio di dieci splendidi pini lungo una delle strade principali del paese alcuni esemplari erano dalla rara bellezza e la comunità si divide molti cittadini hanno gridato allo scempio segnalando la vicenda al TG Max e puntando il dito contro sindaco e giunta poco rispettosi del verde pubblico in contraddizione con la recente scelta di piantare un albero per ogni nuovo nato altri residenti hanno invece tirato un sospiro di sollievo nel corso degli anni più volte era stato segnalato il rischio di caduta rami in caso di vento e neve la pavimentazione di vetta dalle radici le difficoltà per i disabili di percorrere la strada una bella grana insomma al loro posto entro breve si provvederà a piantare una specie più adatta ai centri urbani ma la polemica è ormai rovente e aperta il sindaco Mariella di Nunzio in questi anni abbiamo cercato in tutti i modi di salvare quelle piante infatti due anni fa abbiamo provveduto a fare una bella potatura per evitare danni sia alle persone quindi ai pedoni e ai automobilisti non a caso nel 2014 o 2015 non ricordo male è caduto un pino poco più sotto di quell'ara e è andata a finire sulla strada effettivamente in questi anni ho ricevuto raccolta firme di condomini che abitano lungo quella strada e su altre strade sempre per i problemi causati dai pigli e poi per varie cadute di mamme o nonni con bambini e sinceramente le devo ringraziare perché sono stati così buoni con me che non mi hanno comunque querelata e quindi per evitare questo e per dare maggiore sicurezza ai pedoni ma anche ai disabili perché in effetti lì non può transitare un disabile una mamma con un carrozzino sono costretta a scendere in strada abbiamo cercato anche di sistemare il costelliano e le betonelle il manto del marciapiede ma è stato ogni volta un costo esoso e allora in vista dell'arrivo di un finanziamento statale abbiamo pensato di risistemare tutto il marciapiede di tagliare purtroppo questi pini e di rimpiantare nuovi alberi che non creeranno gli stessi problemi dei pini quindi parleremo di piante più basse con radici che si estendono in profondità e non in superficie e in larghezza Si è svolto a Farindola un convegno per il rilancio delle aree interne basato su un unico obiettivo cioè quello dello sviluppo sostenibile sulle risorse naturali cercando anche nuovi percorsi comuni tra i piccoli centri dell'area Vestina vediamo il servizio di Vestina News Dal passato al futuro Farindola è l'alta area Vestina idee per un rilancio è il convegno dove esperti operatori del settore e autorità si sono riuniti con un unico comune denominatore lo sviluppo sostenibile della zona e una maggiore sinergia tra i piccoli comuni dell'interno potrebbero essere ancora più conosciute e quindi più importanti per l'impatto economico sulle nostre popolazioni se ci fosse la possibilità di fare una giusta promozione aiutati in questo dalle strutture pubbliche io ho appena riconfermato che al nuovo assessore regionale dell'agricoltura riproporrò la creazione di questo dipartimento per la tutela della qualità alimentare che non costerà nemmeno un soldo alla regione Abruzzo ma che potrebbe essere utilissima per tutti quei produttori nella regione che vogliono continuare a fare prodotti di qualità riconosciuta e comprovata e che potrebbero avvalersi di questa identità sul mercato che potrebbe aprire loro nuove porte nuovi mercati nuove situazioni economiche Nel 91 fu fatta una legge per la tutela del nostro territorio in cui si andava a tutelare il patrimonio naturalistico e ambientale dall'opera dell'uomo adesso nel 2019 abbiamo la necessità di tutelare l'uomo da quello che sono tutti i dissesti idrogeologici e valorizzare le eccellenze che abbiamo dal punto di vista naturalistico e no gastronomico e culturale e quindi questo convegno nasce appunto dalla necessità di ripartire di farlo con la stessa determinazione che fu fatto all'epoca per cercare di dare una dignità a questi cittadini e un futuro ai nostri figli A Lanciano tutto pronto per l'estate musicale frentana che apre con il concerto dei solisti aquilani i versi di Dacia Maraini e un cortometraggio sul rispetto della natura musica, letteratura e natura per il concerto inaugurale dell'estate musicale frentana nel chiostro del parco delle arti musicali a Lanciano i versi di Dacia Maraini un cortometraggio che ha portato il pubblico a riflettere sulle stagioni della vita e della natura e infine le note delle quattro stagioni di Vivaldi è importante che il tessuto sociale della città entri a pieno titolo nell'associazione Amici della Musica ed è proprio quello che soprattutto in un anno così difficile l'associazione vuole tornare a fare i prossimi appuntamenti dell'estate musicale frentana sono sabato 15 giugno alle 17 nella chiesa di Santa Giovina per la tradizionale Missa Brevis animata dalla corale Fedele Fenaroli diretta dal maestro Giuseppe Rullo domenica 16 giugno alle 18 sarà invece la volta del concerto dell'International EMF Young Musician con il Wakanda Saxophone Quartet A Morrodoro adesso dove si è svolta la quinta edizione della Sagra delle Granitte e Fave vediamo Concetta Malbone presidente della Proloco di Morrodoro questa quinta edizione della Sagra delle Antiche Ricette che anche quest'anno insomma è partita è partita bene con la serata di ieri sì grazie sì è la nostra quinta edizione siamo effettivamente soddisfatti anche di essere arrivati alla quinta edizione perché effettivamente non immaginavamo che poi la cosa diciamo prendesse piede perché Granetti era un po' diciamo una scommessa perché insomma è fatta con la fava non tutti diciamo gradiscono la fava però abbiamo visto che invece è una cosa che sta andando che piace e quindi la stiamo riproponendo per la quinta volta e abbiamo iniziato ieri sera quindi dal 13 al 16 di giugno questa festa vuole essere un richiamo non solo alle tradizioni culinarie ma anche una festa che unisce cultura tradizioni del territorio perché abbiamo visto che ci sono anche spettacoli teatrali ci sono anche tutti artisti nell'arco delle tre sere del territorio del posto è una scelta voluta sì in effetti hai ragione è una scelta voluta come diciamo anche i prodotti che sono a chilometro zero cominciando dall'olio che è del frantoio e quindi vino e olio sono dei nostri quindi del nostro territorio come gli spettacoli che abbiamo diciamo come gli artisti che abbiamo scelto in tutte le edizioni cambiamo argomento intervenuto nel corso del meeting nazionale di atletica leggera a memoria al Renato Damario tenutosi allo stadio Adriatico Cornacchia il sindaco di Pescara Carlo Masci ha parlato dell'importanza che la sua amministrazione darà allo sport Paolo Sinibaldi il sindaco di Pescara Carlo Masci la domanda adesso qui siamo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia stiamo ricordando la figura di uno storico talent scout come Renato Damario allora la domanda è abbiamo un sindaco sportivo? sicuramente sicuramente a Pescara è un sindaco che ama lo sport e quindi farà di tutto perché lo sport a Pescara possa essere praticato dai giovani e dai meno giovani che farà in modo che le società dilettantistiche non fanno soltanto sport ma creano giovani migliori per una società migliore abbiamo tutte le opportunità possibili per fare questa attività e sarà un sindaco che sicuramente farà in modo che a Pescara ci siano manifestazioni di livello internazionale perché mi piacerà unire lo sport al turismo perché Pescara è una città che vive di turismo e collegandolo con lo sport sicuramente si potranno ottenere grandi risultati Pescara è una città che ha una posizione invidiabile al centro dell'Italia che può garantire tanti servizi posti letto dobbiamo soltanto individuare le attività che possono essere svolte a Pescara e lo sport è sicuramente il traino importante per un'attività turistica molto forte e molto sentita a Pescara Lanciano è la settima tappa della penisola del tesoro organizzata dal Touring Club italiano per la riscoperta del patrimonio meno conosciuto del bel paese l'appuntamento è per domani ne sono già 100 gli iscritti ma si attendono circa 300 visitatori la penisola del tesoro del Touring Club italiano fa tappa a Lanciano domenica 16 giugno l'iniziativa è stata presentata a Palazzo di Città dal sindaco Mario Cupillo dal curatore del programma della tappa lancianese Nicola Donofrio e dal console regionale del Touring Elio Torlontano sono già 100 gli iscritti ma se ne attendono fino a 300 è stato detto dagli organizzatori che vogliono accendere i riflettori sull'antico capoluogo del popolo italico dei frentani il punto di riferimento per le visite guidate gratuite e previste per tutta la giornata di domenica è il gazebo del Touring Club in piazza Plebiscito davanti alla cattedrale della Madonna del Ponte salvata da un terremoto e saldamente ancorata a 5 punti il più antico dei quali a quasi 700 anni il percorso guidato esplorerà i sotterranei della piazza e poi gli affreschi recuperati di San Legonziano il miracolo eucaristico e il museo di Ocesano dove ammirare la croce di Nicola da Guardia Grele nel quartiere Civitanova i visitatori potranno godere la bellezza della facciata gotica di Santa Maria Maggiore mentre la conclusione si svolgerà nel quartiere più antico di Lanciano Lanciano Vecchio con il portale di Sant'Agostino appena restaurato le botteghe medievali di Via De Frentani visitabili senza prenotazione la Torre San Giovanni Porta San Biagio l'antico presepe Ligno nel convento di Sant'Antonio e le fontane medievali la partecipazione alla penisola del tesoro è gratuita gradita alla prenotazione disponibile fino a domenica mattina al gazebo in piazza dove non mancheranno i prodotti enogastronomici abruzzesi da degustare e acquistare andiamo avanti adesso la pagina dello sport l'ex difensore del Pescara Giacomo Di Cara commenta la stagione appena chiusa del Delfino e pensa che anche nella prossima stagione i biancazzurri faranno bene il sogno resta quello di far parte in futuro dello staff tecnico del Pescara dopo essere stato una colonna nelle due promozioni targate Giovanni Galeone sentiamo il servizio di Andrea Costantini c'è una panchina che può accoglierla no non lo so il calcio è strano comunque fa bene c'è sempre qualcuno che ti passa davanti quindi quello è un problema ma diventa l'ultimo perché è un mondo che conosciamo quindi si è alla finestra e poi quello che succede succede questo Pescara come lo ha trovato qual è il bilancio che fa Giacomo Di Cara dell'ultima stagione ma una stagione che era nata un po' così senza grossi grossi clamori la squadra dall'inizio ha dimostrato di poter ambire al salto di categoria non ci è riuscito non ci è riuscita per poco è stato un peccato perché poi quando arrivi lì ti viene sempre l'appetito sicuramente verrà allestita una squadra anche per l'anno prossimo per fare bene è stato scelto Luciano Zauri proiettato dalla primavera alla prima squadra non è la prima volta che il presidente Sebastini sceglie il tecnico della primavera che giudizio dà di questa scelta e di quello che sarà il futuro di questa prossima stagione io nelle scelte della società sinceramente non mi sento di mettere bocca la società dei piani ha un suo modo di gestire questa società lo sta facendo benissimo negli anni ha dimostrato di saperlo fare quindi si è scelto Luciano Zauri perché probabilmente ritiene l'allenatore valido per la categoria per la squadra e per l'idea del presidente di tutta la tecnica quindi assolutamente la società deve fare le sue scelte le sta facendo in maniera molto positiva dopo i trionfi da giocatore all'epoca di Galeone Giacomo Di Cara sogna magari un giorno di poter allenare di essere nello staff della Pescara Calcio nello staff tecnico ma quello l'ho sempre detto io qui ci sono nato sono stato lì in curva poi sono passato in mezzo al campo tra virgolette mi sento parte della storia del Pescara perché ho fatto parte delle due promozioni in Serie A tra virgolette è l'unica squadra che si è salvata fino adesso nella categoria maggiore quindi il sogno è quello di averci giocato e quello di un giorno di poterlo magari allenare ma questo non lo so se sarà un sogno che rimarrà nel cassetto prima o poi succederà veramente adesso la Serie C accordo virtualmente raggiunto tra il Teramo e Bruno Tedino che la prossima stagione dovrebbe sedere sulla panchina bianco-rossa dopo la sfortunata parentesi di Palermo per l'ex Pordenone sarà la stagione del rilancio si ragiona sulla durata del contratto due o tre anni ma il più ormai sembra fatto e allora il punto è di Jacopo Forcella Bruno Tedino sarà il nuovo allenatore del Teramo l'ex Pordenone Palermo avrebbe raggiunto già un accordo con i dirigenti bianco-rossi per prendere in mano il diavolo nella prossima stagione quello di Tedino non è stato l'unico nome analizzato dalla nuova dirigenza del diavolo dopo aver sondato il terreno con Alessio Dionisi dell'Imolese che piace però anche alla Juventus primavera nella giornata di ieri l'accelerazione con il tecnico che ha scavalcato in un colpo solo anche Massimo Drago e Andrea Camplone due che avevano grandi possibilità di sedersi per il ribaltone con Genore Maurizzi a cui nelle prossime ore sarà comunicato l'interruzione del rapporto che aveva durata fino al 30 giugno 2021 adesso si ragiona sulla durata del contratto con quello che dovrebbe essere il prossimo tecnico escluso l'accordo annuale proprio in virtù del fatto che la preferenza è per un progetto a lunga scadenza dunque o un biennale più probabile oppure un triennale con Tedino che nel caso dovrebbe risolvere il proprio rapporto con il Palermo prima di poter firmare con il Teramo con tutta probabilità insieme a lui arriveranno anche l'allenatore in seconda e il preparatore atletico ma non il preparatore dei portieri triennale invece il contratto che dovrebbe siglare Andrea Iaconi che dunque sta per mettere il primo tassello nella costruzione del nuovo diavolo del neopresidente Franco Iacchini durante il vertice che c'è stato tra Tedino e la società Teramana nelle ultime ore pare siano usciti anche dei nomi di giocatori per costruire un organico che andrà rifatto praticamente da capo per le ufficialità bisognerà però attendere perché le questioni burocratiche passate del tecnico vanno prima messi a posto per poi procedere alla sua presentazione che dovrebbe avvenire nello stesso giorno di quella di Andrea Iaconi insomma la prima casella quella sulla quale cominciare il nuovo progetto a questo punto c'è la settimana prossima sarà quella nella quale dovranno essere risolti gli impegni precedenti per cercare di iniziare prima possibile col calciomercato anche il prossimo 15 luglio il Teramo va in ritiro a Rivisondo e la ragione del rilancio in quale il loro aggruppamento però non è dato ancora sapere Tedino dopo la varetesi sfortunata in Serie B col Palermo dunque col doppio esonero riparte da un gradino sotto per provare a replicare quanto di buono si è visto negli anni di Pordenone Nel pomeriggio alle 18.30 a Montecatini c'è in palio la Serie A2 siamo al basket per l'amatori Pescara che se la vedrà con l'Urania Basket Milano in caso di sconfitta match di appello domani pomeriggio contro la perdente fra Orzi Nuovi e Sansevero le attese della vigilia nelle parole del coach Stefano Raiola Urania Basket che avversario è forse ormai si è abituato a giocare contro squadre quotate che hanno roster anche di grande esperienza oltre che profondi Urania è in particolare una squadra esperta formata da giocatori che hanno già giocato partiti di questo genere vinto campionati di Serie B anche l'anno scorso giocatori esperti tra i 30 e i 35 anni ma che comunque non disdegnano ancora di correre di mettere tanta fisità in mezzo al campo però come siamo forti anche noi perché anche noi se siamo arrivati fin qui naturalmente loro forse sono partiti a inizio anno allestendo un roster con giocatori già formati importanti noi con giocatori forti che però dovevamo diventare ancora più forti stando bene insieme e diventando una squadra che è quello che ci è successo ecco magari con i vari paleari Santo Lamazza tante sfide nel passato da giocatore con Stefano Raiola farà effetto ritrovarli ora da avversari essendo peraltro in panchina guarda sicuramente Simoncelli Santo Lamazza sì poi altri giocatori Eliantonio Piunti alcuni sì alcuni sono giocatori che magari sono stati più che altro nei gironi del nord quindi è una bella sensazione sì ritrovarsi in campo io da allenatore con giocatori che hanno contro i quali ho giocato contro è sicuramente una cosa bella la cosa per me più bella è vedere noi che siamo comunque una squadra giovane che magari non tutti ci davano per certi alle final four inizio anno poterci giocare alla pari una partita del genere questo sarebbe la più grande soddisfazione per me tra voi è il sogno c'è il ripetere le gare giocate con Salerno grande ritmo intensità difesa difesa dura per 40 minuti e poi leggerezza in attacco che ha contraddistinto i vostri migliori momenti hai detto bene tu tra noi è il sogno c'è una partita da vincere per vincere le partite bisogna fare determinate cose farle bene di squadra singolarmente per quello che prepariamo per le sfide che si vivono in mezzo al campo tra singoli giocatori noi abbiamo fatto un lungo percorso dall'inizio anno ad oggi ho detto ai ragazzi che in una partita secca devono portare tutto il bagaglio che hanno di un anno per metterlo subito tutto in una partita perché non è che poi tra una partita e l'altra si possono aggiustare delle cose l'allenatore può aiutarli a aggiustare delle cose è tutto per questa edizione del TG6 io vi ringrazio per averci seguito prossimo aggiornamento alle ore 19 buona giornata a presto a presto a presto Grazie a tutti.